Una grande battaglia, quella che abbiamo portato avanti sull'articolo 15 e 16 e poi sull'articolo 6. L'articolo 15 e 16 volevano imbavagliare il Consiglio regionale, la Giunta voleva imbavagliare limitando i poteri del Consiglio regionale per quanto riguarda le funzioni importantissime sugli indirizzi politici del bilancio. Grande battaglia del centrosinistra ed è stato ottenuto lo stralcio. Ancora più importante l'articolo 6. Avevamo detto che era un articolo illegittimo, non si potevano legare spese obbligatorie come il sociale, l'istruzione, il trasporto pubblico a entrate incerte. Una battaglia che è valso il 10% di tutti i capitoli per quanto riguarda i settori più sensibili, per quanto riguarda il ticket sociosanitario, il trasporto per i disabili, il diritto allo studio. Battaglia vinta e sono stati ripristinati ben 12 milioni e mezzo. Ovviamente resta il nostro giudizio fortemente critico perché sono troppi i tagli di questo bilancio, ma queste tre battaglie il centrosinistra le è riuscite a vincere.